Allora, il titolo della sessione di oggi, tanto che mi accendo un timer graziemente e poi vado via troppo lungo. La sessione di oggi riguarda una parte, un focus su uno degli n argomenti che si possono dire su IoT Edge e il focus è quello dell'MQTT. Allora, prima di tutto, perché ne parliamo? Perché fondamentalmente questo oggetto sta continuamente cambiando di significato e complice anche un po' la tendenza oggi di avere, diciamo così, il pendolo del cloud versus Edge tende verso la parte Edge e quindi diciamo che oggi come oggi si tende a parlare di Edge in generale. Ne faccio veramente qualcuna di slide. Spero che voi possiate vedere quella che c'è adesso. Si parla appunto di Edge Networking. Quindi che cosa significa un Edge Networking? Significa che non ha più significato parlare di un luogo centralizzato, esso sia su un data center piuttosto che sul cloud, per lo svolgimento, diciamo così, dei calcoli relativi ad un'applicazione. Una volta c'era la parola a me cara, visto che arrivo da Rodrigo, il fog computing. Il fog computing è fondamentalmente stato prima mangiato dall'Edge Computing come parola e adesso però sta ritornando fuori in quanto c'è il near edge e il far edge. Su chi ha guardato un po' di documentazione su IoT Edge comincia a vedere dei distinguo tra IoT Edge come gateway o che ne so, un device che è anche gateway oppure Edge enabled piuttosto che no, oppure ci sono i downstream device. Insomma, quello che si sta capendo è che quello che era un po' l'ordine che era stato fatto da un'architettura centralizzata, bene o male adesso si sta nuovamente, perdonatemi il francesismo, rincasinando. In realtà questa cosa ha dei benefici in quanto, se voi pensate ad una rete distribuita di calcolatori, voi potete, al bisogno, agganciare un nuovo nodo che magari fa una certa operazione e quindi svolge verticalmente una sorta di compito. Bene o male, ricalca un po' lo stesso concetto che tempo fa si vedeva sulla parte di servizi, quando si pensava al microservizio, in senso puro si diceva che il microservizio è qualcosa che ha una testa, un corpo, una base dati dedicata soltanto verticalmente a quel tipo di informazione e di fatto questo è un unicum che può essere plagato all'interno di un sistema basato su code e topic in modo tale da poter post processare o preprocessare il dato secondo una certa pipeline e questa pipeline poi in realtà era una successione di potenziali microservizi che si adoperavano per confrontare ad un certo tipo di dato con una registry locale, arricchirlo in certi modi e poi rispedirlo nel flow. Questa cosa qui, che ultimamente insomma per chi come persone che lavorano assieme a me fa un po' di edge computing, sa che bene o male è sempre troppo stretto il pc industriale dove si va a lavorare. E poi ci sono le classiche domande di sempre, cioè come faccio ad avere un ambiente di test coerente, è giusto o non è giusto preparare un simulatore ed è giusto o non è giusto installare tutte queste robe su delle macchine virtuali quando in realtà poi nella vita vera ci sono dei pc che hanno ben altre peculiarità e peculiarità soft. In buona sostanza il edge networking è quella forma di computing distribuito che risolve questo tipo di applicazioni facendo in modo tale da poter variare dinamicamente l'impostazione dei flussi da un punto centrale e di poter plaggare al bisogno dei ulteriori pezzi di computazione dei dati, più o meno grandi, più o meno dedicati a una certa cosa. Sicuramente potrebbe farvi essere interessante per alcuni di voi capire quello che è un caso reale. Non vogliatemene porto esempi di IoT industriale, semplicemente per farvi capire che se voi pensate all'IoT come al device che tira su quattro dati in croce e li manda verso un punto centrale, lì potete anche chiudere a guardare la sessione, un'altra sessione, non la mia, perché quello non è edge distribuito. Edge distribuito è quando tu hai un carico pesantissimo di cose da fare, magari un entry point che ti viene richiesto sia campionato a velocità molto importanti, quindi multipli di hertz e in maniera totalmente configurabile questo ingresso dati, questa valanga di dati che entra, deve in qualche modo essere usufruita in modo diverso da una o più applicazioni. Alcune possono essere applicazioni end user, altre possono essere delle sorte di enrichment o inferenze sul flusso di dati che arriva per poi andare a finire in altre parti. Su questa slide voi vedete uno use case che dice, leggetelo dal basso verso l'alto, io ho un generatore di dati che genera un sacco di dati, dopodiché ho un primo livello di edge che fondamentalmente, questo è abbastanza semplice, si occupa di prendere i dati in ingresso, fare lui alcune operazioni e distribuirle, o meglio pubblicarle, affinché qualcun altro che è interessato, questi altri rettangoli, possa prendere quello che è di proprio interesse, quindi sottoscrivere una sorta di topic e fare un qualche cosa, qualche cosa che può essere visualizzare localmente un dato piuttosto che eseguire un'operazione, una inferenza, un calcolo, qualsiasi cosa, per poi far ritornare il dato all'interno del punto centrale e questo poi va fuori, e va fuori nelle solite e classiche maniere, cioè nella classica lambda 3v, piuttosto che ha una storicizzazione, diciamo così, di dati di tipo temporale. e fin qua è ok. Il problema che si pone è quegli strumenti standard fino alla 1.1 di IoT Edge, alla versione 1.1 di IoT Edge, è che certe comunicazioni, come vedete comincia ad esserci Nord, Sud, Est, Ovest, certe comunicazioni non possono essere fatte e quindi, come dire, si è resa necessaria, questa è la prima cosa. L'altra cosa è che al netto di avere un carico di dati bisognava trovare un modo meno pesante, ok, tipo EJUB, meno pesante di EJUB per far girare le informazioni. E quindi, diciamo così, è arrivato, diciamo così, IoT Edge 1.2, il quale di fatto ha portato dentro quello che è l'MQTT. Una volta, non è che non si potesse fare, una volta si faceva lo stesso, si faceva con MQTT Net, e quindi voi facevate altro che fare un modulo di IoT Edge che praticamente istanziava un servizio su una porta, magari non proprio di quelle canoniche, e dopodiché all'interno di quello stesso identico servizio dove avevate, come dire, che mettevate a disposizione, c'era la possibilità di instradare praticamente i messaggi verso un certo, passatemi i termini topic, anche se non è così, all'interno però di EJUB. Difetti di questa cosa? Fondamentalmente, chi la garantisce? Non la garantisce Microsoft, quindi nessuno di noi si fiderebbe a portarla in produzione. Anche perché IoT Edge è ancora un oggetto talmente ibrido tra la parte applicativa e la parte più accomunabile a K3S che la gente non ha ancora ben capito come funziona. E devo essere sincero, è abbastanza complicato ancora. Diciamo che è perfettamente capibile se sai quello che devi fare. Adesso vi faccio vedere. Comunque, in buona sostanza, quello che sono qua oggi a spiegarvi e anche un po' a farvi vedere è la parte di esclusione totale di quelli che sono i mezzi proprietari di Microsoft all'interno dell'Edge Runtime e di fatto come può essere utilizzato alla stregua di un Moschito Broker. Questa cosa è sicuramente utile perché vi permette di cominciare a distribuire i dati su degli edge che stanno in parte, mettiamola così, né sopra né sotto rispetto a una sorta di gateway vero e proprio e questa cosa vi permette poi di riuscire a pensare ad architetture estremamente distribuite. Per estremamente distribuite, dopodiché mi taccio e comincio a farvi vedere un po' di codice, intendo questo. portate pazienza per i potenti mezzi, immaginate di avere un punto centrale, il chiamiamo Azure. Su questo punto voi decidete di mettere un... adesso non vado a cercare quale icone perché altrimenti diventa troppo lungo. Immaginate che su Azure ci sia un Azure Container Registry, dove voi mettete i vostri moduletti. Dopodiché, sicuramente all'interno di Azure, avete il vostro IoT Hub. Anche lì, altro gran casino di significato. Non è un device management e basta, perché contiene anche una pipeline intrinseca. è un ibrido tra tante cose, no? D'altronde, se fosse stato uguale agli altri, magari nessuno di noi l'avrebbe guardato. Dall'altra parte, tu hai, nel mondo, nel mondo hai delle zone geografiche. Immaginate di avere West Europe e di avere un'altra, West US. Questa roba qua, facciamola così, questa è da un'altra parte, mettiamola così, su un'altra sottoscrizione e in un'altra region. All'interno di questa region, voi avete, diciamo così, deployato degli altri IoT Hub, ma soprattutto, a livello proprio planetario, all'interno di questa region, voi avete i vostri asset. Togliamo IoT Hub per evitare casino. Però immaginate che, come dire, un asset in West Europe faccia fatica ad andare qui, dove siamo in Australia Sud. E quindi voi avete degli asset che stanno in varie parti del mondo. Questi asset devono essere, in qualche modo, governati. Allora, andiamo sempre più nel particolare. E sicuramente hanno bisogno di un punto d'incontro, quindi di un gateway. Questo gateway è quello che, in realtà, vi permette di fare il cosiddetto asset management, cioè di gestire le metriche di utilizzo dell'asset al fine di farci il vostro business, che potrebbe essere vendere pezzi di ricambio, piuttosto che vendere una centrale operativa, quello che volete. E questo è il vostro gateway. Mettiamo il caso, però, che qui dentro ci siano anche delle persone. Se qua scrivo user, spero che non si impalli il computer. Questi user, però, infatti, sì, sapevo che si impallava. Questi user devono, in qualche modo, bravo, e questi user, eccoli qua, gli user, devono, in qualche modo, poter guardare queste applicazioni. Vedete che andiamo sempre più nel piccolo. E queste applicazioni non sono l'asset, non sono il gateway, ma sono delle applicazioni web, che stanno qua, che devono prendere i dati dall'asset. Secondo voi, queste applicazioni dovranno stipulare una seconda connessione? La risposta è no, perché altrimenti non sarebbe stato qua ad ascoltarmi. Quindi significa che io dovrei fare così. E poi abbiamo detto prima il discorso delle differenze, eccetera, eccetera. Ma il problema, che sott'interno di tutta questa roba qua, è che il mio ACR è qui dentro. Sta in un'altra region. Quando Microsoft comincia a parlarvi di Stack Hub, Stack Edge, tutte queste robe qua, il disegno che c'è dietro non è quello di cominciare a fare voli pinarici di rete a destra a sinistra, perché sappiamo che in realtà la rete è il guaio, la latenza è il guaio. Quindi in realtà quello che ci stanno dicendo, se riesco, è quello che ci dovrebbe essere un filo rosso che connette non soltanto l'edge device, ma cominciare a tessere quelli che sono dei fili su altre porte, in modo tale che il mio operatore nel momento in cui è qua e dispone un aggiornamento e quindi qua fa un update, quello che succede è che questo ACR è in sincrono con questo. Magari non al millesimo di secondo ma è un time triggered timed sync, ok? Cioè nel senso una sincronizzazione a tempo, ok? Periodical to, periodical sì. E nel momento in cui c'è questa sincronizzazione non si fa niente fino a quando non c'è l'impulso da parte di qualcuno che in realtà è un altro tipo di operatore. Questo è un operatore che fa operation, questo è un operatore che fa sviluppo e questo non fa altro che dire eh sì, adesso dobbiamo aggiornare tutti quanti i device. Quali? Questo che è in rete IT o se riesco a farlo questo che è in rete OT per cui questa roba qua non vede internet scusate questo è il giochino e il giochino lo stanno ancora mettendo in piedi adesso ve lo faccio vedere allora ogni tanto faccio delle asserzioni ma soltanto per farvi capire come si sviluppa cioè come si evita di perdere la testa in questo mondo distribuito perché ci sta poco allora voi sapete che su IoT Edge tutto si basa su un file di configurazione che è il vostro manifest ok guardiamo un manifest un manifest verosimile dopo vi spiego cosa vuol dire verosimile per me questo è un manifest questo qua gateway deploy v001 punto json ok se fate delle screenshot e vi beccate le mie credenziali dopo tanto comunque cancello tutto evitate e lo dico per gli amici che mi fanno sempre il punto sulle credenziali chiare quindi ho un manifest dove dico che ho due robe importanti l'edge agent dove dichiara praticamente tutti i moduli dove cominciate a vedere dei moduli che di solito non si vedono nei vari tutorial forse si blog storage si c'è adesso vi spiego perché c'è dove c'è un come dire azure container registry vero che è quello dove teoricamente dovreste mettere tutti i vostri moduli di iot edge che poi vanno deployati e dopodiché vedete i system modules quindi vedete praticamente la sorta di dichiarazione di tutte quante le environment variable e tutte le configurazioni per far avviare quanto predichiarato qua sopra e quindi praticamente avete edge agent edge hub che hanno le loro impostazioni quindi edge agent sopra con tutte quante le definizioni e poi c'è edge hub che è il nostro centralino con i fili che oltre ad avere la solita configurazione notare che quando c'è scritto 1.1 c'è scritto 1.2 e questo è il primo dei casini che avrete non si spiego perché c'è tutta la parte di autorizzazione di mqtt quindi tornando a noi come si lavora per fare tutto questo gioco qua allora io ho messo in piedi una struttura abbozzata abbozzata fatta tra pranzo e adesso fatta così c'è un gateway questo gateway parla con internet ok questo gateway ha sicuramente una cr come dire che si può vedere questo può uscire dopo di che ho fatto due esperimenti il primo esperimento è di avere un downstream device questo downstream device lo faccio parlare con il gateway via mqtt invece poi ho fatto un altro device lo metto qua ma semplicemente perché non saprei dove metterlo intermediate device che parla anche lui via mqtt però parla però anche riesce a prendersi le robe dall'acr quindi qua c'è l'acr qua c'è una sorta di acr mirror e quindi di fatto quello che c'è è che c'è una comunicazione questi non possono andare in internet c'è una diciamo così comunicazione con questo acr mirror che non è l'acr remoto tramite il gateway praticamente il gateway fa anche da container registry quindi questo gateway sta assumendo un ruolo che è tutt'altro che applicativo sta assumendo il ruolo di broker applicazioni qua dentro non ce ne sono c'è una sorta di mega impostazione che fa sì che questo gateway sia l'anello mancante tra una retta che non può andare su internet che può viaggiare solo su una porta come so porta 8000 ok nginx dove c'è un reverse proxy che fa tutto il resto e dove diciamo così c'è la possibilità di attingere anche per questi device a delle immagini che non sono propriamente non arrivano direttamente da internet ma vengono periodically synchronized guardate pazienza per i typos images ok tra internet e il gateway questo è il giro allora questo questo e questo sono IoT Edge di tipo 1.2 il primo problema di IoT Edge 1.2 è che l'altro pg cioè l'altro product group quello che fa l'asure portal sono fuori per fuori cioè nel senso con la loro roadmap intendo dire che se voi fate una configurazione basata dicevamo prima su questo schema version voi qua dentro perdete il supporto web quindi c'è un'altra modalità per riuscire ad andare a fondo su queste cose se voi io clicco su IoT su device 001 gateway qua non è che è sbagliato il problema è che non è compatibile la GUI non è compatibile con l'EJAB 1.2 quindi la prima cosa da fare è munirsi diviso studio code e cominciare ad editare a mano come si faceva sicuramente la parte di deployment e ovviamente questa parte cambia cambiano le cose che vanno qua dentro a seconda che uno sia collegato a internet piuttosto che non sia collegato ad internet come vedete qui non c'è scritto un indirizzo internet ma c'è scritto upstream e quindi la prima cosa è mettersi nell'ordine di dover continuare a deployare e poi cominciare ad avere un sacco di finestrine aperte per quanto mi riguarda io ne ho almeno una aperta per ogni device quindi in questo caso downstream gateway e intermediate console ssh mi sono messo per comodità un iot hub monitor in modo tale da poter vedere tutto quello che passa senza tirare su troppe applicazioni e dopo uno o due azicli quelli che servono l'importante è cominciare a fissare nella testa alcuni comandi tipo il fatto di sparare giù il deployment con un comando guardiamolo un attimo assieme azeta iot edge set modules device cd hub name resource group e dopodiché il content il content è il file che abbiamo visto prima quindi nella vostra scaletta voi dovete avere un tool per fare l'editing dei manifest non c'entra con viso studio voi potreste tranquillamente fare anche delle console application quando usate l'mqtt all'interno di ejab cerco di dirlo due volte quando voi usate un modulo iot edge cosa fate qua fate tasto destro nuovo tipo di progetto iot edge e cominciate a tirar giù una struttura di classi tutta particolare no? però in realtà questa roba nel momento in cui andate a fare un client mqtt non serve più a niente cioè vi tenete giustamente la parte di run async la parte come dire di spegnimento del servizio corretta eccetera eccetera però dentro non è più un modulo di iot edge è al pari di una console application ok dove voi non fate altro che creare un client e cominciare a fare la start la connect dipende se il client usate questo o altri e poi fate il vostro publish e subscribe dei vostri servizi fine ok quindi immaginate per esempio non so nel caso di prima uno che fa subscribe dove era qua questa applicazione qua che ha un dentro questo iot edge qua ci sia una console application che fa subscribe su un particolare topic che c'è esposto da questo focal point SPOF mettiamola così single point of failure che è quello che tira sui dati e li mette all'interno del broker e magari qui in edge 2 c'è un'applicazione che non fa altro che prendere i dati e schiantarli dentro un SQL edge un SQL edge messo a disposizione magari per un'applicazione web che non sa niente dell'architettura edge non sa niente di PLC o di altro sa soltanto che deve fare da GUI a un SQL DB interno adesso io ovviamente cito dei componenti di Microsoft però voi fondamentalmente se vi mettete il cappello cloud native e buttate dentro quello che volete sono Docker container le stesse le create option che voi avete dentro edge hub sono le create option di Docker ok quindi andate a leggere le create option di Docker dopodiché le scrivete all'interno della configurazione e del vostro manifesto ok bene detto quindi vuol dire che tante di queste robe qua questa roba qui è una stringa che poi viene se la pappa il modulo ok in fase di execute tornando a noi quindi abbiamo detto questo è lo use case come si fa lo use case si fa abilitando l'MQTT all'interno di edge hub per abilitare l'MQTT all'interno di edge hub in modo tale da abilitare questo quello che dobbiamo fare è nel gateway deploy v001 al netto di quello che dopo vi spiego che c'è qua dentro fare una cosa fondamentale che è guarda che aspetta eh questo quindi si chiamano ancora experimental feature siamo tutti d'accordo stiamo parlando di robe un po' borderline il gruppo prodotto spero come dire renda tutti quanti più felici tra poco mettendo tutto quanto in GA cioè togliendo questo experimental feature e quindi praticamente per accendere su edge hub l'end point questo è e ovviamente edge hub in quel caso ha bisogno di bind che sono oltre quelli standard ok quindi 1883 perché altrimenti sarebbero 883 e 5671 MQP MQTTS in modalità edge hub classico ok sicuramente in edge hub c'è bisogno di una storage folder ma questo semplicemente per poter memorizzare tutti gli in flight messages ok all'interno dell'MQTT broker tra le altre cose in un database wall based wall based che è ROXDB la cosa importante è guardare poi le properties che al netto dei routes che fondamentalmente uno potrebbe anche togliere perché non ce ne frega niente magari è una manipolazione che fa rimanere i dati nel edge non c'è niente che viene portato su un cloud l'importante è intanto capire cosa c'è scritto qua dentro cioè sulla parte di MQTT broker ovviamente se voi mettete questa ma non mettete questa MQTT non funziona una delle erogne io dal mio punto di vista sono per la libertà di accesso nei livelli 1 e 2 cioè non è proprio non sono ancora molto convinto della estrema security che bisogna applicare nei livelli interni se questi sono separati da internet però vabbè mettiamo di essere fra i bravi bandini e di mettere tutto quanto in sicurezza beh insomma sappiate che non esiste comunicazione MQTT che non sia autenticata oltre che autorizzata cosa significa significa che all'interno di queste impostazioni dei gateway dove avete abilitato la MQTT broker quello che dovete dire è che per ognuna delle tre operazioni fondamentali e cioè connect publish e subscribe voi dovete dire quali sono le identità questa è fondamentalmente un asterisco ok altrimenti sarebbe l'id del device edge piuttosto che l'id del device edge slash il nome del modulo perché ricordatevi scusate sento antimo ah grazie ok quindi l'id del device edge ce n'è uno quindi l'identità qua è l'id del device edge piuttosto che id del device edge slash il nome del modulo perché entrambi hanno un twin il twin del modulo è un twin diverso dall'altro e quindi significa che il loro stato operazionale è distinto comunque in questo caso abbiamo semplificato la roba dicendo tutti dentro ok come si diceva una volta però dovete dire quali sono per lui li chiama risorse quali sono i topic autorizzati se voi non definite correttamente questa parte mqtt non funziona quindi per riassumere mqtt su iot edge si ma uno dei ma è che tutte quante le connessioni devono essere autenticate se no non va cioè se voi fate una connessione prendolo spero insomma di avere ancora il sastoken che va si va ok adesso guardiamo queste due righe qua come ho scritto pub meno t topic meno i identity sta qua meno u e adesso cominciamo a dire perché la identità non è tipo pluto paperino ma è sta roba qua ahimè è un refuso ancora del protocollo mqtt di iot hub quindi non c'è niente da fare vi tenete un utente scritto così e meno p questo è il sastoke ok host versione dell'mqtt questo è fondamentale fondamentale perché altrimenti fondamentale per moschitto se volete usare moschitto pub altrimenti si presenta come dire con una versione che non è 3.1.1 che è quella che invece dell'altra parte vuole e dopo di che vabbè meno messaggio quello che è questa roba qui funziona ok come avete visto fa la connect il connect il publish il disconnect perché praticamente c'è una identità riconosciuta questa identità è rappresentata da un child device rispetto al gateway il topic è autorizzato da questa roba qua altrimenti questa roba qua altrimenti non funzionerebbe e il sas token quindi la password è valida quindi se io vado qui qui sono in tail praticamente su credo è job sì e quindi qui vedete praticamente ogni tanto fa il renewal delle identità dei cosi connessi c'è un intermediate connesso in subscribe vedete device 003 intermediate sending subscribe e dopo ogni tanto fa il ping no rec resp per rimanere appeso e dall'altra parte notate i cosi se il downstream device io mi presento con una identità sbagliata qua mi dice connection refused not authorized the connection was refused giusto bene qua me la sono persa forse sì scusate non ci vedo poco portate pazienza eccolo qua dedication successfully non riesco a vedere il messaggio no drop connection con hack eccolo qua portate pazienza ci vedo veramente poco refuse eccolo qua buono perfetto questa roba qua non è autorizzata quindi lui non va la domanda è dov'è che gli ho detto io di autorizzarla se voi guardate soltanto qui dentro voi dite ma qua non c'è mica scritto che uno può andare o non andare è una delle cose fondamentali è capire che l'autorizzazione e l'autenticazione sono due cose diverse perché una è regolata come dire da da questa parte e l'altra è regolata da una parte che sta online cioè in buona sostanza non è qui che io vado a definire chi è che può parlare con chi devo andarlo a definire all'interno di un browser quando sono dov'è quando è stream device portate pazienza e me purtroppo non le faccio tutti i giorni quindi sono un po' lento è in questa parte qui che voi andate a dirgli praticamente guarda che io ci sono e sono connesso a te ok e grazie a questa roba qua che voi andate altrimenti non funziona più certo ci sono un sacco di impostazioni da fare diciamo che dal punto di vista formale ok quello che occorre fare per instradare una comunicazione correttamente diciamo che si può riassumere in pochi comandi la prima è il fatto di dire az iot hub device identity create quindi creo una identità dopodiché guardo la sua stringa di connessione poi gli faccio il set dei moduli e dopo ovviamente io devo come dire gerarchizzare prima di tutto questi device in modo tale che questi device siano interconnessi tra di loro e si capisca chi è il papà di chi questo è un po' in buona sostanza quello che succede se torno allo schema perché sono già 37 minuti e non sto facendo molte slide oggi non so se notate volutamente nel momento in cui io comincio a parlare con internet e sono il gateway e dietro di me ho n altri livelli di device di edge device uso una slide perché altrimenti faccio il lavoro due volte questo un top layer device e un lower layer device abbiamo detto che questo tipo di gerarchie succede se sono in reti stratificate o meglio se mi trovo in una roba tipo questa qua tira via le note vada tanto lo sappiamo vedete questa fotografica presa dal sito di microsoft non sono mica ricasso fondamentalmente quando avete 0,1,2 pace dal 2 comincio ad avere un dimestream device dopo di che comincio ad avere il mio sul livello 3 o al 2,5 come piace a me qua in mezzo comincio ad avere il mio vero mondo dove faccio acquisizione inferenza e poi però magari voglio trasferire quelli che sono i dati via mqtt per esempio o in parte o magari posso portarli su di un livello perché magari è un mqtt usato per trasferire dei dati verso un'applicazione che è un verticale che ne sono verticale energia un verticale qualità un verticale manutenzione e anche questi però sono come dire in una rete mappata non più su rete OT su rete IT però ancora come dire soggetta a firewall e quindi alla fine praticamente la mia catena arriva fino ad avere anche un dispositivo del manga ok che magari è nel datacenter dell'IT quindi l'IT ha il coltello della parte del manico perché ha l'ultimo pezzetto della mia catena e quindi ho server di reparto dove ho i verticali che si connettono via mqtt a dei gateway che stanno tra il livello 2 e il livello 3 i quali non fanno altro che fare acquisizione e inferenza e post processing in maniera orizzontale cioè con più device in batteria rispetto a quello che arriva da un stream device di campo che ne so un backoff che riceve in profibus e spara fuori in mqtt alla velocità della luce quello che succede qua in alto invece è il fatto che a un certo punto io devo in qualche modo non uscire per mandare dei messaggi ad iot hub e fare la solita carineria di iot central eccetera eccetera bellissimo ma non è questo lo use case ma devo in qualche modo avere una connessione con qualcuno che mi dice boh tu sei autorizzato non sei autorizzato a parlare o aspetta che ti butto giù un deploy che magari deve andare a finire tra il livello 2 e il livello 3 e però parte da fuori e ci sono un po' di muri da scavalcare quindi il problema di fondo è che mqtt non è la sola risposta alle reti distribuite l'altro problema che sussiste nelle reti distribuite è il fatto del networking e del dispatching degli aggiornamenti dei moduli contemplando delle logiche di attenzione alla parola mirroring di registro mirroring di registro è lo stesso identico concetto che hanno utilizzato i nostri amici di iot edge quando hanno detto beh sapete che c'è c'è che da una parte c'è adx che tira dentro file come se non ci fosse un demani i file stanno su un blob storage che è su cloud che però è sincronizzato mirroring di servizio sincronizzato con un blob storage edge che invece sta nella nostra archiviazione locale che manda sui dati e dopo butta via la copia locale nel momento in cui è sicuro che dall'altra parte sia tutto quanto a posto e questa roba qua la fa by design è lo stesso identico concetto quindi sebbene la documentazione qua devo tirare un po' le orecchie al pg anche se non sono nessuno perché la documentazione non è ancora tutta aggiornata ci sono alcuni punti ancora che sono vecchiotti infatti su alcuni punti si legge che è corretto prendere il docker registry che viene distribuito da docker in realtà in altri punti c'è già l'aggiornamento e cioè che microsoft ci sta per infilare il salsicciotto di natale qual è il salsicciotto di natale? il salsicciotto di natale si chiama connected registry è una roba che c'entra con IoT Edge? la risposta è no è una roba che c'entra con Azure container registry vediamo che cos'è allora io vado su Azure container registry quindi vado qui e scopro che ci sono queste robe qua in preview attenzione ve ne faccio vedere alcune perché per esempio gli scope maps devo ancora capirli anch'io quindi portate pazienza però questo l'ho capita ed è dei connected registry allora voi avete oggi l'accesso a un container registry che è quello che è il vostro repository di immagini e lì sparate dentro tutto quello che volete quindi non so andate qua fate tasto destro fate publish vi connettete a questa roba qua vi fate generare il tag solite robe benissimo dentro i repository abbiamo questa roba qui dopo parliamo del fatto del perché ho questo io ho anche il mio modulino mqtt che non fa altro che fare publish e subscribe cioè niente di wow e questo è un repository che sta a centrale bene che cos'è il connected registry il connected registry è un qualcosa che è partito come stack hub cioè va bene insomma la parte di l'ex Azure stack sul fatto di poter sincronizzare due container registry uno centrale e uno periferico su una edge zone e in buona sostanza adesso ne faccio ne creo un altro giusto per provare potete avere n parent n parent di connected registry dichiarati qua dentro poi in realtà si trasformano in connected registry sui vari livelli sui vari livelli fino ad arrivare all'n-1 quindi vuol dire che voi scrivete qua e poi fate sync 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 di tutti quanti i registri di fatto quello che fate è che ne so avete due possibilità cioè il fatto di dire ci scrivo dentro ok oppure leggo soltanto perché voi praticamente qua dentro dichiarate le gerarchie di registro ok e dopodiché dite quello che è lo scheduling lo scheduling di che cosa della sincronizzazione che avviene tra il registry di Azure e i registry che ci sono all'interno dei vostri plant in modo tale che il vostro plant abbia un container registry locale che viene utilizzato poi per mirorare se stesso con tutti i livelli di edge intermedi fino ad arrivare all'ultimo poverino che è un dump che non ha neanche gli occhi per piangere e tutta questa roba qua è fatta in maniera selettiva cioè significa che se il mio cliente di tipo A ha soltanto immaginate che il mio cliente di tipo A abbia che ne so solo storage vi dico che questo è l'unico repository che sarà sincronizzato con quella edge zone quindi con quel plant quindi vuol dire che se voi fate un buon tagging all'interno dei vostri device docker cioè dei vostri container che deployate potete anche non gestire in maniera unitaria quello che è il release management del vostro software ma potreste anche decidere di fare i delta per i clienti quindi in modo tale che poi da qua dentro voi cominciate a dire bene allora il plant Pippo ha un main gateway dove dentro ci pianto dentro il mio primo connected registry e lì dentro ci vado a mettere soltanto i moduli che interessano a quel cliente ok e facendo così voi potete selezionare quello che è il vostro connected registry adesso non faccio il creator insomma ne ho creato uno prima ho sincronizzato tutto quanto ho messo uno schedule vabbè orario e basta punto ok by the way non è vero che sta roba funziona soltanto per le applicazioni che voi fornirete ai vostri clienti all'interno di IoT Edge voi state fornendo un servizio di infrastruttura cioè significa che se voi abilitate un client token qua dentro cioè praticamente fate uno username e una password per questo registry remotizzato sincronizzato con questo client token il vostro il reparto IT del vostro cliente sarà in grado di utilizzare questo registry per se è read write anche per utilizzarlo in scrittura oppure read only solo per scaricarsi gli aggiornamenti spero che questa cosa sia stata chiarita per quanto riguarda la parte di configurazione di un connected registry il connected registry potrebbe essere utilizzato da solo se voi volete sincronizzare con un plant il vostro container registry ok magari dentro ci mettete dei docker con il software compilato con una licenza a tempo fate quello che volete l'importante è che poi sparate giù solo quello che interessa al plant questo è il concetto diverso è invece il ruolo dell'API proxy che wrappa quello che è una porta esposta dal connected registry perché semplicemente c'è un cavolo di firewall di proxy firewall in mezzo tra la rete IT e la rete OT per cui passano soltanto chiamate in una certa porta 443 8000 quello che volete andiamo a leggere un attimo andiamo a leggere un attimo quello che succede qua dentro quindi questo è il gateway il gateway dice mi connetto cioè ho utilizzato questi moduli il primo modulo è il connected registry benissimo fondamentalmente quello che c'è qui dentro è l'immagine che viene presa e viene presa da qui dentro dopo di che c'è le sue opzioni fondamentalmente deve esporre una porta ho messo l'8080 giusto per rimembrare i tempi di Tonker e ovviamente il dove che aspita andare a scrivere fisicamente sta roba quindi vuol dire che voi all'interno del vostro gateway aspetta che adesso sto cominciando a fare giramenti di testa all'interno del gateway qua dentro qua dentro c'è data e qua dentro c'è niente vabbè perché l'ho creato e basta comunque in buona sostanza lì dentro è dove vanno a finire le immagini ok e da notare una cosa questa connection string questa connection string è la connection string che permette di collegare quello che è questa roba qui cioè praticamente questa è l'immagine docker e permette di connettere questa immagine docker cioè di sincronizzare su queste immagini di far gestire una roba che è stata scritta qua dentro da queste immagini docker con un registro notare questo non si chiama acr001rzregistry che è il nome del mio del mio registro su cloud si chiama ho chiamato io apposta edge acr001rzregistry perché perché fondamentalmente questo è il nome di questo quindi questo di fatto è un endpoint è un endpoint che ha una propria stringa di connessione questa stringa di connessione ha un token altrimenti non si connetterebbe infatti come vedete c'è un endpoint di macchina virtuale settorializzato cosa vuol dire settorializzato scusate regionalizzato vuol dire che di fatto la connessione viene fatta con un particolare nodo nodo distribuito su cloud quindi vuol dire che su più aree geografiche voi avete un acr cloud che è agganciabile con un acr edge cosa vuol dire vuol dire che se io qua dentro vabbè potrei fare dei child quindi volevo vedere se riuscivo a ritrovare la parte la parte la parte la parte questa l'ho fatta io no guardate pazienza mi sono perso un secondo oddio eccola qua qui praticamente voi non fate altro che decidere le repliche del vostro acr ognuna di queste repliche poi viene scelta per collegare una sincronizzazione con un connected registry quindi praticamente se torno alla prima immagine qui c'è un synced registry quindi c'è uno centrale che sincronizza su uno che è di regione il quale viene utilizzato come parent gateway per andare a mappare un connected registry che sta all'interno delle mura di un plant quindi forse ho fatto una cappella così ecco west us come regione fisica acr di west us con come dire in sincro con l'acr di base che ho da un'altra parte dopodiché questo acr viene preso come parent gateway endpoint per essere poi mappato come connected registry dentro il gateway scusate vado avanti 53 minuti dai ce ne possiamo fare quello che voglio far vedere era stavamo dicendo il binding qua porta 8080 connessione va bene dopodiché dicevo c'è bisogno però di mettere anche un un qualche cosa come dire che mappi all'interno della rete è quella protetta iperprotetta quella qua sotto e quello che è il mio acr quindi uso questo cioè questa che è un'immagine API proxy 112 dopo vi faccio vedere il completo che me lo scrivo come vedere le versioni perché belli i tutorial che ci sono su microsoft.com però in realtà non ti fanno mica capire dove sono le versioni adesso vi faccio vedere fondamentalmente questa è un Nginx reverse proxy esposto sulla porta 8000 che non so se vedete ha bisogno di due ulteriori configurazioni questo è in rete locale docker quindi in realtà non è che puoi mettere 10.0.0.4 devi mettere il name dell'immagine docker nella rete docker quindi vuol dire che questo ragiona con questa label qua che è la stessa label che ho preso da qua se qua scrivevo pippo qua avrei dovuto scrivere pippo esposto sulla porta che abbiamo detto qua 8080 ok quindi vuol dire questa è la mia API proxy serve se ho degli IoT Edge in rete OT che non possono accedere direttamente come dire a questo registro locale sulla porta 8080 ma hanno soltanto la 443 a disposizione che ne so adesso ho scritto 8000 ma l'importante è non incasinarsi con le porte perché la macchina è una quindi non è che puoi avere due non so edge hub esposto sulla 443 e avere anche un API esposto sulla 443 perché si incasinano ogni modulo deve avere una porta che è univoca all'interno dell'istanza IoT Edge comunque c'è questo modulo che corrisponde a delle API esposte sulla 8000 la porta 8000 è la porta dove viene fatto eseguire anche il docker interno che è quello di Nginx e questo modulo qua non fa altro che dire questa praticamente una volta c'era scritto docker route address e dove si parlava di registri due punti e quello era il modulo registri standard di docker adesso stanno cambiando le cose perché hanno capito che stanno perdendo soldi facendo così in realtà ti costringono ad avere in realtà anche bene questo aspetto governata una intera rete di container registri e in buona sostanza insomma questa roba qua poi mappa questo container su questa porta ovviamente tutta sta roba ha senso se c'è la possibilità poi di storicizzare quello che sto facendo quindi le copie locali e quant'altro e quindi c'è bisogno di un punto d'appoggio il punto d'appoggio è il solito amico nostro che è questo adesso drawback di tutta sta roba qua sono questi primo drawback 56 minuti e non ho fatto slide ragazzi allora il primo drawback è questo qua è una cavolata farlo quando sei disperato quando sei su una rete vera devi ricordarti di munirti a livello fisico di un aggeggio che in qualche modo faccia da come dire da binder di porte insomma faccia il ruolo dell'NSG del network security group ma on prem perché? perché bisogna cominciare a abilitare porte tutti questi edge si devono vedere tra di loro quindi non è sufficiente mettere 5671 883 perché sono quelle di edge hub sì si usi edge hub altrimenti se cominci a usare altre robe mqtt da una parte engine ex con l'api proxy e vuoi anche da un lato far vedere anche la porta 8080 del container registry vuoi usare per la qualsiasi anche il tuo blob storage devi cominciare a mettere fuori le porte è chiaro che adesso io sono in una situazione privilegiata me la faccio me la racconto tanto con due formini ho finito quello che succede nella realtà è che quando si deploya o quello che dovrebbe succedere nella realtà quando si deploya è che tu hai una rete fatta così tu hai questo che è il tuo gtw abbiamo detto il nostro gateway bene da un'altra parte sul southbridge hai il nostro field che viene fuori qua mqtt benissimo qua dentro cominci ad avere il tuo primo lo chiamo nsg ma soltanto per farvi capire il significato il tuo nsg interno che fa in modo tale da poter connettere tutta questa roba qua quindi post processor oppure ml ops inferences endpoint un altro archive local archive local archive un altro endpoint ancora qua in alto ops tutta sta roba qua non è che tutti devono vedere tutto ok quindi ci vuole un robo di rete qua dentro che vi semplifichi la vita questo è fondamentale non fate non fate mi raccomando non fate l'errore di dire devo risparmiare prendo tutti quanti i piccifighi non prendo questo gli chiedo a quelli del plant di fare loro questo routing tranquillamente ci vedete quando andremo in pensione e sarete ancora lì a aspettare che questi risolvano i ticket quindi evitate assolutamente come la peste di fare sta roba qua munitevi di un non so un sisco qualsiasi fatelo voi mettetelo in rail e siete a posto così capite? ok e tornando a noi 59 minuti 58 ho ancora due minuti dopo vi lascio in pace se siete ancora vivi quindi gateway A l'endpoint verso fuori perfetto il connecting registry bene l'IoT proxy ok dopodiché le solite due cavolate quindi EJAB e EJAGENT mi raccomando EJAB togliete le porte se la usate da altre parti e dopodiché c'è la parte di MQTT quello che volevo dirvi prima era questo era il top device un device che sta sotto in realtà che sta sotto vuol dire che chiama non ovviamente la 443 perché altrimenti dico una monata ma la 8888 quindi questa roba qua ok questo è chiamo il device che so che è il mio parent e lo chiamo sulla 8888 prendendo questo ok e avanti così sugli altri questo modo di fare vi permette di avere dei manifest che voi piantate dentro e che vengono come dire connessi assieme attraverso la connettività di sto roba qua l'importante è che capiate una cosa quando voi sparate un aggiornamento qua quando fate così qua c'è scritto non so se vedete intermediate deploy vuol dire che voi andate sul cloud sparate questo questo va giù sul gateway e dal gateway va giù fino a raggiungere l'edge hub che ha quel identity di un certo tipo cioè questo e lì ci fa come dire l'update e da lì ripartono i docker container dei moduli che sono ridefiniti questo è più o meno quello che volevo dirvi all'interno di mqtt per quanto riguarda le prove e dopo terminano dopo terminano e l'unico punto di incasinamento è la parte di autenticazione e di autorizzazione perché in realtà poi quando ci si lavora è molto più semplice che non lavorare con i moduli di IoT Edge in quanto fondamentalmente voi quando scrivete su un downstream device un messaggio lo scrivete come ho scritto pub quindi non state più scrivendo qualche cosa mi è scaduto il tocco scusate dall'altra parte quello che se sul gateway avete scritto che tutto quanto va verso upstream vuol dire che sul cloud da qualche parte spunterà fuori quel messaggio dentro IoT Hub capite? quindi vedete? questi qua li abbiamo andati prima e quindi fondamentalmente voi utilizzate IoT Hub per gestire come entry point unico per gestire il set modules di tutti quanti i device che avete deployato all'interno della rete e questi device se sono connessi correttamente tramite l'utilizzo dell'API proxy con un connected registri dietro voi riuscite ad aggiornare tutti i docker container che ci sono dopodiché il fatto di utilizzare un MQTT client a caso adesso io uso MQTT net o quello che volete alla fine sono cinque parametri cioè il client ID deve essere ripeto o il device o il device mod più modulo la password dello user sono quelle che voi ricavate che voi ricavate con il solito comandino aspetta che ve lo faccio vedere questo qua clear generate sas token device ID hub name resource group policy vabbè adesso ma l'ho esagerato ma vabbè 10 ore questo è il token che avete lo username è questo inserito in questa stringa standard che voi dovete mangiare così così com'è ovviamente l'IP è quello fisico e dopo il topic è quello che vi interessa quindi in questo caso se questo è un client che è in subscribe sto dicendo che io mi connetto come client MQTT a questo IP con queste credenziali presentandomi con questo identificativo ricordatevi che non potete presentarvi due volte con lo stesso identico identico ID senza rinunciare a uno dei due alla connessione cioè salta praticamente il primo e però voglio sottoscrivermi a il topic che è quello che praticamente mi ha pubblicato qualcun altro adesso questo è il topic dove arrivano di default tutti i messaggi di edge hub rivolti a questo però insomma potete scrivere PIP qua dentro ok e dopodiché vabbè la parte di connessione ripeto qui non c'è scritto niente niente se non una start una subscribe e dopo una handler quindi che reagisce ogni volta che viene che viene preso un messaggio bene adesso allora facciamo una demo che ha lo scopo di far vedere tutto il giro che c'è da un downstream device fino a un possibile output che va su IoT Hub ma semplicemente per far vedere che il giro esce dall'edge e va sul cloud e vi ho preparato uno schemino di più o meno quello che c'è adesso come comunicazione giusto per inquadrare la demo allora immaginate di avere un downstream device che è una come dire un device che non ha IoT Edge è di fatto un field che manda dati lo rappresentiamo questa volta attraverso una macchina virtuale Linux con Mosquito Pub quindi con il publisher di Mosquito che manda un messaggio all'inizio quello che facciamo è mandare un messaggio su un topic che di fatto mappa esattamente quello che è il buffer di memoria dedicato ad un modulo IoT Edge cioè significa che io parlo in MQTT ma entra in hijab e quel messaggio quindi viene poi forwardato esattamente fuori quindi senza nessun post process una cosa che prima non ho detto e che mi sono reso conto che invece è importante è spiegare che l'MQTT funziona esattamente come tutti noi pensiamo cioè con i topic con scritto Pippo Pluto Paperino ed è questo è vero ma quei topic lì sono topic interni che stanno nel contesto d'uso dell'MQTT broker nel momento in cui invece io pubblico su un topic che è un topic riservato cioè intendo dire che fa parte del device quindi è un device slash device ID slash events piuttosto che è un topic che porta il nome del device e del modulo IoT Edge di fatto io sto sparando in MQTT ma è come se praticamente se mandassi un messaggio all'interno di EJAB e quindi se all'interno di EJAB ho configurato un asterisco route to chioccio upstream vuol dire che tutto quello che passa in EJAB va a finire fuori in IOTM scusate ma per farvi capire ancora meglio io sono qui ho il mio ho il mio downstream device no? se io come vedete io prendo e faccio un mosquito pub il topic è devices slash device 002 leaf 01 che è lui e se stesso messages events è come se lui pubblicasse all'interno dell'edge hub del gateway un messaggio come un downstream device standard ok? e quindi cosa significa? significa che se io accendo il monitor quindi accendo il monitor events questo è il monitor events dei messaggi che sono su IoT Hub e quello che risulta è che se io faccio questa pubblicazione io la trovo anche qui ok? adesso vi faccio vedere vedete starting event monitor di use control e citro benissimo un secondo soltanto allora vado qua il topic è quello di EJUB mando lui mi fa la publish e poi si disconnette nel gateway di fatto non ho visto praticamente niente nel senso adesso ho tolto un po' del livello di logging ho lasciato soltanto warning in modo da non avere troppa fuffa che gira e come vedete quello che è successo è che ho ottenuto fuori su IoT Hub il messaggio chiamato message hello world ok? quindi vuol dire che se io prendo qua e cambio il messaggio e scrivo hello world rick 01 mando il messaggio e lui su IoT Hub trova esattamente questo messaggio facendo così io ho fatto una comunicazione con downstream da un downstream attraverso EJAB con un pass through perché? perché ho pubblicato su un topic che non era possibile che non è possibile sottoscrivere da un device diverso attenzione questa cosa è importante se io scrivo qui dentro un device che ho e quindi io scrivo su EJAB il nome per conto di un determinato modo di un determinato device nessun altro device può andare a leggere a sottoscrivere un topic che non gli appartiene capito? cioè il device 01 non può andare a leggere il topic device 02 questo è fondamentale perché questi questi topic qui sono speciali cioè praticamente sono mapping uno a uno con le pipe interne di EJAB ok? e vi ricordo che nel gateway quindi qua dentro la che aspettare qua c'è scritto che messages asterisco into upstream quindi vuol dire che events va dentro upstream bene adesso invece facciamo un'altra robina decidiamo di non mandare più le robe su devices bla 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 ma le mandiamo dentro un topic che non c'entra niente ok? non è un topic di EJAB potevo scrivere anche PIPPO questo topic qua è events data identità username password è tutto uguale prima soltanto è cambiato il topic ok? questo se io lo mando as is io non lo vedo qui perché non è mappato da EJAB con un routing interno ok? è un topic che è come dire è un raw topic cioè fondamentalmente non c'entra niente con la struttura applicativa offerta in termini di input e output da EJAB per vederlo questa roba qui io ho bisogno di avere siccome stiamo dicendo che in questo caso usiamo EJAB come un broker NQTT qualsiasi io vorrei avere la possibilità di avere una sorta di listener o meglio di subscriber visuale che mi faccia vedere quello che gira qua dentro e così è nel senso che ho istanziato se la trovo una macchina virtuale questa è una macchina virtuale su Azure guardiamo un attimo l'architettura è questa macchina qui vuol dire che è connessa alla stessa network questo è l'indirizzo 10.004 adesso non ricordo se è questo o questo che è il 0.3 scusa il 0.5 il 0.6 e il 0.7 quindi tutti dall'interno della stessa subnet e fondamentalmente quando io adesso prendo il downstream device su questo topic qua e mando questo dall'altra parte qua dovrei teoricamente vedere allora mi connetto torno di qua mando events data boom lui va qua non trovo niente perché perché fondamentalmente non eh qua c'è già la risoluzione adesso vi faccio vedere vabbè fate finta di non aver visto ho mandato ho mandato il messaggio e qua ho trovato il messaggio diceva hello world 2 e qua infatti trovo hello world 2 ok quindi vuol dire che se voi agganciate se voi agganciate un mqtt explorer al che risiede sia che è in grado di vedere la porta 1883 del di dell'iota edge dove avete il broker installato voi potete tranquillamente come dire sottoscriverlo come qualsiasi broker e quindi vedere praticamente il traffico in uscita ok il traffico che passa scusate adesso quello che volevo farvi capire e che in realtà probabilmente alcuni di voi l'hanno già visto è che questo topic qui è praticamente lo stesso identico topic che io ho inserito eccolo qua all'interno di questo modulo di IoT Edge che di fatto non è un vero e proprio modulo perché modulo di IoT Edge significa che che ricalca lo skeleton di messaggistica di Edge Hub questo è un vero e proprio client ok MQTT che è in ascolto è in ascolto su questo topic ponendosi di fronte all'MQTT broker di IoT Edge anche lui autenticato chiaramente con le proprie credenziali ah mi ero dimenticato di dire che per avere un MQTT Explorer siccome abbiamo detto che tutto è fatto su connessioni autenticate io ho praticamente utilizzato all'interno del portale Azure ho creato un device finto neanche IoT Edge un device figlio del gateway anche lui quindi ho creato un device che si chiama WinTest aspetta che ve lo faccio vedere ho creato un device chiamato WinTest adesso ve lo faccio vedere appena farle retrieve questo qua non è un vero e proprio device è un device finto mi serve semplicemente per avere una connessione ok questa connessione quindi lui ha il suo SAS token eccetera eccetera mi permette di utilizzarlo sempre in modo autenticato per vedere quello che succede e quindi io mi sono sottoscritto aspetta che vi faccio vedere a un particolare topic è chiaro che io potrei fare il furbo qui dentro e mettere non so events slash cancelletto in modo tale che venga fuori praticamente tutto quello che passa dentro events comunque questo è la modalità usate un device fake per utilizzarlo per connettervi con un MQTT GUI client tornando a noi siccome abbiamo detto che il giro dovrebbe essere invece downstream che manda su un topic non di sistema ma un topic custom dentro il gateway io vorrei che ci fosse un device che in parte fa la subscribe su quel topic post processa il messaggio e lo manda dove e lo manda dentro ejab come messaggio finito in modo tale che vada fuori oppure potete usare altri custom topic e contatto nell'esempio che vi faccio vedere era è topic raw quindi interno gateway offre il topic a chi lo sottoscrive lo sottoscrive un client esterno per monitorare la situazione ma lo sottoscrive anche un altro iot edge che sta in parte che post processa il messaggio e fa quindi fa la subscribe del messaggio sul topic custom e poi fa la publish dentro ejab chiaramente collegato a se stesso no? a se stesso come topic e siccome dentro ejab c'è un bel asterisco to dollar upstream il messaggio va fuori il concetto era per farvi vedere il post processing da un east west device quindi qui mando su events data andiamo a vedere quello che ho deployato quello che ho deployato è come vi dicevo prima un client quindi un main praticamente con run async che fa che cosa? che fa la subscribe del topic events data e dopo cosa fa? modifica il payload io non faccio altro che prendere il payload che mi entra qualsiasi esso sia e adesso per fare un esempio per farvi capire e lo faccio diventare valore di un attributo macro che si chiama post processed però capite anche voi la potenzialità di poter dire prendo una roba in ingresso smandruppo qualche cosa e poi la ripubblico in questo caso per chiudere come dire non troppo in maniera troppo complicata al giro ho detto lo pubblico dove siccome questo device qui è device 0.3 intermediate ho detto bene lo pubblico sui messaggi a lui dedicati dentro eJUB e in modo tale da fare in modo tale che dopo tramite il from messages into upstream questo è messages poi vada fuori quindi per fare la demo significa dire accendo il monitor qui scrivo hello world innova ok bene questo è il mio messaggio nel mio monitor adesso si vedrà il gateway non favelerà nel senso che non dirà niente e noi vedremo il messaggio andare fuori non con scritto message hello innova ma post-processed message hello innova ho mandato l'intermediate l'intermediate ha ricevuto questo messaggio vedete log message received non è received nel senso è gestito managed e quindi è questo vedete post-processed message hello innova dentro il monitor quindi fuori da legge c'è post-processed message hello innova volessi fare un test facciamo un test benissimo allora quello che scrivo qua è pippo pluto lo mando su event data come se fosse un downstream device faccio publish hello innova era quello di un minuto fa e adesso è arrivato questo e anche qua vedo praticamente ha fatto il giro da un'altra parte invece di aver fatto il giro da di qua ha fatto il giro da di qua è entrato dentro anche lui è stato preso d'assalto perché in realtà pubblicava sullo stesso identico topic intermediate ha fatto il post-processing del messaggio rispedendo indietro la cosa e Gator l'ha mandato questo per farvi capire la potenza di fuoco di un'infrastruttura del genere cioè significa che voi potete far entrare messaggi a velocità importanti per quanto riguarda le velocità importanti c'è da dire che diciamo così dal punto di vista prestazionale l'MQTT broker tiene molto di più di EJAB e a livello di throughput adesso vi faccio vedere quali sono i benchmark che mi sono stati dati dal TG un po' di tempo fa quindi magari è ancora penne comunque in generale questo è quello che accade quindi tramite MQTT prendo porto via e rilancio dove voglio potrei rilanciare dentro MQTT oppure a un certo punto dire li mando dentro un che ne so un componente un modulo va benissimo di EJAB per riuscire a spedire fuori magari un messaggio un messaggio verso IoT Hub è chiaro che utilizzare alla fine dentro il gateway moduli di EJAB fa sì io potrei avere anche far subire delle modifiche al TG del tipo una intermediate VM fa altro praticamente processa comunque tutto quanto e poi in termini di che ne so configurazione che posso spedire giù via TG verso un modulo di EJAB un modulo di IoT Edge modulo di IoT Edge potrei dire filtro ulteriormente il risultato ok di tutte quante i post-processing i post-processing locali eccolo qua questa era la tabella e fondamentalmente come vedete su un Raspberry Pi quindi una sì insomma una macchina non prestazionalmente non troppo non troppo grande e praticamente questi al netto di essere messaggi da 32 byte mandati su un test topic eccetera eccetera comunque per farvi capire quanti messaggi al secondo è possibile gestire se voi cominciate a guardare un CodeLix GN41 che ripeto non è sta gran roba è comunque già un PC industriale di media potenza cominciate a vedere che ci sono circa 50 in QS0 o comunque 15.000 in QS1 quindi QS1 vuol dire che almeno una volta ti arrivano se non di più e quindi sono 15.000 messaggi al secondo gestiti ok vuol dire se immaginate di avere n di queste macchine qui avete che ne so una con il Gateway che prende 15.000 messaggi al secondo dall'altra parte c'è qualcun altro che magari ne può sprocessare una porzione per poi essere come dire inviati inviati verso il cloud ecco questa era un po' un po' la demo che volevo farvi per farvi capire un po' tutto il giro e per farvi capire la potenza che sussiste nel momento in cui viene utilizzato non solo il JAB come metodo di pipeline interna ma anche la parte di MQTT io vi ringrazio per l'attenzione e niente vi auguro buon proseguimento ci vediamo presto